Proseguono gli interventi di finitura presso il cantiere del nuovo svincolo di connessione tra l'autostrada 19 Palermo-Catania e la nuova sede della statale 640 Strada degli Iscrittori. Lo rende noto l'ANAS, sottolineando in una nota che fino a venerdì 25 Palermo sarà necessario chiudere al traffico in orario diurno la rampa dello svincolo normalmente utilizzata per i veicoli provenienti da Catania e diretti ad Agrigento e Caltanissetta. Il percorso alternativo prevede di proseguire sino al successivo svincolo di Ponte Cinquearchi dove sarà possibile rimettersi in autostrada verso Catania per poi uscire mediante lo svincolo di Agrigento sulla carreggiata opposta.